Scatman's World Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano ecco un altro gioco storico che voglio portare oggi OutRun Cost to Cost 2006, sto gioco qua sempre in sala giochi, mamma mia ragazzi quanto si rimorchiava questo gioco, c'era proprio la postazione con la macchina e ciao ecco la modalità sicuramente più gettonata era cardiopalma dove dovevi soddisfare le esigenze del puttano nebiondo e adesso andiamo a fare proprio questa ragazzi ci andiamo a sparare vai purtroppo devo ancora sbloccare tutte le macchine io andavo sempre con la testa rossa chiaramente andiamo andiamo coladino il colore aspetta F1 nera automatica e qua ragazzi speriamo che non ci siano problemi con le copyright ma life was a board era la canzone più gettonata mamma mia quanto me la godevo e adesso andiamo vogliamo soddisfare le richieste del puttano ma ci sono sempre due bivi beh lo sapete magari i più piccolini non lo conoscono però ci sono diverse strade che puoi percorrere ve le faccio vedere insieme vai raga questo ragazzi è un gioco della sigla devastante anche questo gioco l'ho bruciato il cume è un po' in vena di di giochi retro sono proprio sente la vecchiaia il cume se devo superare le macchine devo guadagnare i più cuori possibili così il puttano non è biondo me la da il puttano non è biondo me la da vai 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 yes tripla si lo so amore ecco della passion no vai 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 oh yes adesso andiamo su quella più facile teoricamente death lake e cambia lo scenario ragazzi arcade puro ma no anche qua c'è una modalità comunque che si può fare se volete una serie la vedo dura però questo gioco piace di più magari i vecchiotti come il cume se devo superare le macchine è un gioco di una frenesia incredibile ed è ancora bello graficamente è ancora bello a undici anni sto gioco dai eccoci qua vediamo se possiamo superarle tutte no cazzo ok lo so amore non so vediamo cosa mi richiede derapation vai puttano le mie vai 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 adesso andiamo sempre a destra andiamo a tutta la parte più difficile vediamo su che traguardo finiamo non mi ricordo più ancora tripla ma adesso arriva il difficile ragazzi eccola qua il puttanone sta biondone ragazzi cosa vuole oddio il cono blu è difficilissimo eccola ecco l'errore è ok un cazzo no merda sono leggermente fuori ok se me ne da una semplice grazie amore merda oh che brutto sto incrocio ok andiamo sempre a destra ah snow mountain ok vediamo qua le richieste guarda che contenta che è la zoccoletta si però ha fatto un terzo round di merda mamma mia come si scivola come da neve fioi oh manco male ci sono tantissime modalità sto gioco c'è tantissime per l'epoca ok si amore ah ok non devo colpire niente ma ricordo che c'erano anche richieste ancora più impossibili se non me li ricordo fioi sono passati tanti anni ottimo è anche buona mi chiede vedere la parte che insomma sono le meno difficili merda ok andiamo ancora a destra ci sono ci sono cinque percorsi che puoi fare o sesso non mi ricordo merda vaffan cuore attacca ma che bello cosa devo fare a prendere i cuori ok cazzo è difficile questa lasciamo a Roma qua Colosseum dai muovite ma la guarda si che emozione fra un po' il mio cazzo sarà una sarà una bella emozione buono 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 yes ancora buono 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 yes ragazzi eccoci qua siamo arrivati ma è buono cazzo buono molto molto bene bene allora ragazzi voglio assolutamente portare almeno un video su questo gioco se volete una serie c'è perché nella Q-Mend c'è una serie C5 vabbè se puoi fare per esempio queste sono le missioni da completare c'è anche come si dice tra virgolette modalità storia ecco ma sicuramente Cardiopalma è una delle più belle poi c'è anche attacco al tempo e raggiungi anche il traguardo con la tua ragazza questo è praticamente sempre con i checkpoint di recuperare i secondi e questo è molto difficile ragazzi sotto l'occupandone veneziano la voglia di retro vediamo se riesco a portare altri giochi retro purtroppo Virtua Striker con Dolphin mi crash ogni 3 secondi quindi è un po' difficile portarlo con l'emulatore ragazzi non si trovi come torne veneziano ciiu non si trovi come